Salve, benvenuti alla Libera Università L'Uspio di Roma. Il nostro è un ateneo che punta su un'offerta formativa di qualità in un settore spendibile professionalmente in tantissimi campi. In particolare, sia per gli interprete che per i traduttori, nella nostra facoltà di interpretare e traduzione, sia per la triennale che per la magistrale, sviluppa dei percorsi in ben otto lingue per garantire ai nostri studenti, ai nostri futuri laureati, una possibilità di impiego occupazionale nei più svariati segmenti, che vanno dall'interpretazione pura alla traduzione nei vari ambiti, non solo editoriale, ma anche aziendale, cinematografica, a quelle che sono le opportunità nei campi dove l'aspetto linguistico è fondamentale, quindi non solo quello aziendale e commerciale, ma quello del turismo. Oltre alla facoltà, che è il nostro fiore all'occhiello di interpretare e traduzione, in questo ateneo ci sono anche altri due percorsi importanti. Uno in economia, che si sviluppa sulla triennale e sulla magistrale, nel settore classico, ma anche di percorsi pensati per l'economia sanitaria e i mercati regolamentati, e in scienze giuridiche. Il nostro percorso di supporto nella didattica, ma anche come servizi di ateneo, è pensato per realizzare intorno ai nostri studenti delle attività che li accompagnano appieno in quello che è l'inserimento occupazionale. I nostri servizi di placement e gli uffici che si dedicano allo scouting di aziende interessate ai nostri laureati è costante, quotidiano e mi pare tutto di eccellenza. E tra le attività e i servizi che noi facciamo per i nostri studenti, oltre ad accompagnarli a trovare delle opportunità, sono delle vere e proprie vetrine. E sono i nostri career day, che ormai all'interno dell'università sono un'istituzione, ma anche nell'ambito della regione Lazio e più in generale nell'ambito nazionale, vengono veramente frequentati da aziende di ogni tipo. Quindi abbiamo aziende specifiche che cercano interpreti e traduttori per le loro attività, ma anche aziende che per andare in un ambito internazionale, quindi sviluppare il mercato, cercano competenze linguistiche molto specializzate. Qui da noi ci tengo a dire, oltre alle classiche lingue, quindi inglese, tedesco, francese, si sono sviluppate negli anni importanti i corsi in arabo, e dietro di me potete vedere proprio uno dei corsi, l'ambientazione delle nostre aule con le cabine, di cinese, di rumeno, di russo, quindi anche quelle che sono delle lingue emergenti per quelli che sono il sviluppo dei nuovi mercati. Il nostro Career Day prossimo sarà il 21 novembre e in questo luogo aperto alle aziende che gratuitamente potranno venire a cercare i loro talenti nel futuro, noi daremo la possibilità ai nostri studenti di presentare al meglio quelle che sono state le competenze per cui le abbiamo formate. Grazie. Grazie.